Ciao a tutti, sono Elena del Centro Diurno di Lanzo. Volevo augurarvi buona Pasqua dedicandovi una breve poesia. Tutto tace nell'incanto della sera, mentre il cuore recita piano una perghiera. Per ogni pena, per ogni sofferenza, per ogni angoscia che stiamo vivendo in questo momento, sperando che tutto finisca bene, che un raggio di sole faccia capolinea oltre il monte. Domani sarà tutto nuovo, tutto sarà più bello, sarà sereno e un arcobaleno di mille colori apparirà in cielo. Tutto andrà bene e sarà una speranza. Per tutti io vi auguro una buona Pasqua. Ciao a tutti, mi mancate tanto e spero che voi e le vostre famiglie possiate passare una serena Pasqua. Elena